Una tavola rotonda per analizzare l'evoluzione del ruolo dell'inimitabile numero uno. Event Sport Management organizza un incontro di formazione per allenatori di portieri al campo sportivo di Solomeo. Sul tema, il portiere di calcio dall'attività di base alla prima squadra, metodologia di allenamento. L'appuntamento è per l'intera giornata di sabato 23 dicembre. Stiamo vedendo che essendoci pochi corsi per allenatori di portieri che magari abilitano le stesse persone ad poter allenare i portieri e poter andare anche in panchina ed essere un pochino formati, è venuta l'idea di organizzarsi con questa formazione. Questa formazione prevede uno scambio di idee, uno scambio di metodologie di allenamento, cosa che nel ruolo dell'allenatore di portieri manca. È specifico per l'allenatore dei portieri sia, parecchi mi dicono, ma mister posso venire, io che non ho il patentino, tutti possono venire ovviamente. Anche allenatori di calcio normali, se si vogliono formare. La mattina faremo un po' di formazione in aula e poi andremo in campo dividendo una prima parte partendo dall'attività di base, poi arriveremo all'attività agonistica, cioè giovanissimi allievi. Poi faremo una pausa pranzo dove anche questo è un momento conviviale dove ci scambieremo un pochino anche le prime impressioni su quello fatto la mattina e poi riprenderemo il pomeriggio alle 15 dove ci dedicheremo interamente al mondo delle prime squadre. Special guest sarà l'ex allenatore dei portieri della Lazio ad Alberto Grigioni, ora alterni FC. Partecipazione speciale anche da parte del vicepresidente Ajak Pierluigi Bossi e relatori saranno Giacomo Massetti, Matteo Taddei, Fausto Ballarani e Leonardo Brunella, oltre all'ex estremo difensore del Gubbio e attuale preparatore dei portieri del Sansepolcro Massimo Prete. Dall'età giovanile, dai primi calci fino ad arrivare ai grandi, soprattutto sulla metodologia dell'allenamento verranno magari svolti dei lavori per far vedere un po' l'evoluzione del ruolo del portiere in questi ultimi anni perché anche il gioco del calcio è cambiato. La metodologia non è che cambia tantissimo, cambia magari il tempo destinato sul settore giovanile a creare un portiere con la tecnica giusta e ci vuole tantissimo tempo, infatti il periodo che va del settore giovanile di 4-5 anni, 6 anni, serve appunto per migliorare i fondamentali della tecnica che poi quando sei grande vanno affinati e quella è la grossa differenza.